Ottimizzare e migliorare la produzione della cipolla bianca di Margherita IGP nell'ottica green è questo l'obiettivo alla base del progetto Cipomar Innovazioni per il Miglioramento Produttivo della Cipolla di Margherita IGP, finanziato dalla Regione Puglia. Insieme al Consorzio sono protagonisti del progetto il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ingegneria dell'Università di Foggia, aziende di produzione locali e qualificati partner che operano a livello regionale e nazionale. Con la riduzione degli scarti e con l'utilizzo di input produttivi sostenibili, i risultati sul territorio tra mare e saline saranno valutati in base alla riduzione dell'impatto ambientale e alla ricaduta economica positiva delle pratiche innovative. Da questa operazione ci si aspetta che la produzione della cultura aumenti in quantità, ma soprattutto in termini di qualità e standardizzazione, riducendo notevolmente la quota di prodotto che oggi finisce tra gli scarti, ha detto Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio della Cipolla Bianca di Margherita IGP.